Droga, estorsione, corruzione, soggetti affiliati o contigui alle famiglie mafiose di Barra Franca e Pietra Persia. I Carabinieri del Rosso e del Comando Provinciale di Enna in Sicilia hanno eseguito un'ordinanza di custodia nei confronti di 46 persone, 35 in carcere, che operavano da Enna fino alla Germania. I reati contestati a vario titolo sono associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico e allo smercio di stupefacenti, estorsioni, corruzione aggravata dell'aver favorito l'associazione mafiosa, detenzioni di armi e assistenza agli associati. In parallelo, gli investigatori dell'arma hanno notificato anche un decreto di sequestro preventivo di beni, società, beni immobili e conti correnti, per un valore di oltre un milione di euro. L'indagine è stata avviata nel maggio 2018, dopo che a Raffaele Bevilacqua, già condannato per associazione di tipo mafioso, erano stati concessi i domiciliari per motivi di salute. Secondo quanto reso noto dagli inquirenti, l'uomo, tra la fine degli anni Ottanta e i primi anni del 2000, era non solo componente del direttivo della democrazia cristiana e in strettissimi rapporti con Salvo Lima, ma anche al vertice di Cosa Nostra e Nese, per diretta investitura di Bernardo Provenzano. Grazie a tutti.